Corpus Domini 2018, qual è l'impressione che hai avuto dopo questa mattinata così intensa dell'Elettri Zander qui in città? È una impressione che si amplifica ogni anno di più, ma l'amplificazione viene dalla gioia condivisa di una intera città che si arricchisce, dei cittadini che rientrano, degli ospiti, dei campobassani, dei molisani tutti e dei tantissimi turisti, sia italiani che non, che vengono a partecipare a questa festa, l'impressione della consapevolezza del campobassano di una festa che non è più soltanto di un'identità racchiusa, ma di un'identità che si amplia e che si propone sulla scena europea e internazionale.